bello a tutti asfaltoni benvenuti su leontube andiamo a vedere come va avanti la nostra epic epic pricks dell'agente achilon diciamo decisamente male anche se abbiamo migliorato un pochino nel secondo round andiamo a vedere come abbiamo finito secondo round ottavi quindi abbiamo migliorato un po purtroppo anche qui ero riuscito a fare un tempo più basso ma sarei stato comunque ottavo mi sembra sì quindi niente di che ora andiamo a fare il round 3 round 3 allenamenti non mi sto trovando affatto bene ho fatto solo 3 allenamenti 35 6 49 il mio miglior tempo su 3 tempo da battere 36 secondi per 5 volte per prendere 25 token totali e ovviamente sbloccare tre progetti dell'agente achilon quindi andiamo a fare questi allenamenti sono veloci e poi facciamo uno almeno un tentativo di gara manca ormai poco tempo purtroppo oggi non ho avuto tempo per per giocare devo fare anche le q2 del grand prix della riserva tycoon speed adesso concentriamoci qui questa pista breve per raggio adesso purtroppo non ho sbagliato mi ha preso mi ha preso il 360 qui traiettoria ok possiamo provare a raccorciarla lì da quella parte qui la macchina mi perde tanto non mi ci trovo davvero 36 e 5 c'è da migliorare da migliorare assolutamente almeno prendere i token anzi poi per prendere i progetti bisogna stare assolutamente sotto il 36 e qui non mi sembra proprio di essere all'altezza men che mai ma peggio ancora del primo round credo ora riproviamo non ho visto se questo davanti all'auto più potenziata di me perché mi prende molto nella partenza ho provato sia a spararla nitro sia a spararla ok andiamo così niente da fare schifo saluto andiamo di recuperare qualcosa qui niente siamo già lontanissimi 36 ce lo sogniamo qui poi facciamo flipper siamo sempre lì su quel tempo un secondo sopra il mio best time comunque provo subito anche un tentativo di gara in questa vista davvero davvero tosta per me non riesco a capire come fare al meglio la prima parte e la parte finale in un tracciato di 30 secondi quindi non riesco a fare praticamente tutta la pista ok riproviamo ok riproviamo ok ha sparato il nitro vedete che lui avanza molto di più provato a questo modo vedete che perde un casino deve avere la macchina per forza un po' di più un po' di più qui provo a tagliare un po' la pista stringo un po' niente 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 36 ancora sopra incredibile niente non riesco più a ripetere il 35 un secondo sopra quindi qui si prevede un ultimo posto andiamo a fare tentativo di gara solo tre tentativi si all'ultimo pezzo sbatto troppo contro contro le pareti provo a non sparare la nitro la sparo dopo qui ha per forza la macchina e non mi è partito il 360 sembra di stare leggermente più vicino ok devo provare a passare di la si niente tempo per tempo lo stesso tempo potibile 36 e 4 ultimo posto addirittura e vabbè ci accontentiamo dopo proviamo a allenarci ancora un po' e proviamo gli altri due tentativi con questo ci vediamo andiamo a fare subito il video delle Q2 del Grand Prix a presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti